Allora Ceccio non poteva esserci esordio migliore partita vinta 3 a 0 insomma tutto 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 bene Tutto bene no in alcuni momenti abbiamo dovuto soffrire specialmente il terzo set ci siamo un po' nati in difficoltà anche dal punto di vista fisico perché comunque questa partita tirata abbiamo fatto delle scelte a priori che ci hanno portato a fare il trecimo di punto chiaro sia un numero veramente interessante e quindi i ragazzi hanno interpretato bene bene la partita ci siamo chiesti di fare alcune cose l'abbiamo fatte per molto tempo intanto ci siamo persi la nostra bravura è stata a ritornare a fare quello che ci avevamo detto e questo ha fatto la differenza poi veramente i ragazzi hanno fatto una settimana di massima disponibilità è stato veramente tutto facile e sicuramente è stata una bella emozione vincere la prima partita e ci siamo detti che non serviva essere perfetti perché obiettivamente non potremmo essere ci serviva essere due punti meglio degli altri due set abbiamo delle cose che dobbiamo sistemare non abbiamo tutto tempo di lavorare su dei particolari che anche stasera non mi sono piaciuti e non mi piacevano a priori e quindi su questo dovremmo assolutamente tornare insomma vi siete un po' scronati addosso questa idea di io sono cuneo no sono una squadra come tutte le altre e parto come alla pari e noi abbiamo la consapevolezza di che sappiamo fare bene delle cose dobbiamo spingere su quelle ci sono delle cose che non facciamo bene non possiamo cambiare dobbiamo accettare che non siamo perfetti